C'è un bel articolo sul Wrestling Observer, sulla newsletter, che parla di Triple H e che ci ragguaglia un po' meglio su quello che ha subito e si fa anche delle domande su chi guiderà la WWE un domani che Vince McMahon non ci sarà più, visto che ora Triple H, per quello che è il suo stato di salute, non è messo nella condizione ideale per prenderne il testimone. Ve lo traduco e ve lo adatto in italiano omettendo le dichiarazioni di Triple H estrapolate dalla sua recente intervista perché quelle ve le ho già proposte e potete trovarle qua sopra negli strilli che scorrono. Ok? Quindi, dice il Wrestling Observer, da almeno 15 anni Triple H viene indicato come il successore designato di Vince McMahon al vertice della WWE, una volta che l'attuale boss della federazione non sarà più in grado di gestirla. Il problema di salute quasi fatale che l'ha recentemente portato sulla soglia della morte ha però cambiato radicalmente questa prospettiva. Guidare la WWE richiede una quantità di lavoro enorme, con picchi anche di 14, 16 o 18 ore consecutive, uno stress che mal si accompagna a qualcuno che ha gravi problemi cardiaci. Oggi Triple H ha 52 anni e non combatte regolarmente nel ring sin dal 2009. Negli ultimi 11 anni, l'ultima volta che ha disputato più di 10 match durante un anno è stato nel 2017, quando si esibì per quattordici volte. L'ultimo incontro prima del malore dello scorso settembre risale al 29 giugno del 2019 a Tokyo, dove con Shinzuke Nakamura sconfisse Samoa Joe e Robert Roode. Le ultime sfide di cartello risalgono invece a qualche mese prima, contro Batista e Randy Orton rispettivamente a Vrestelmania e in Arabia Saudita. Qualora non ci fossero stati questi problemi, Triple H avrebbe probabilmente lottato nella Vrestelmania di quest'anno. Ma la cosa è immediatamente saltata, non appena si è capita la gravità del suo malessere. Un blocco totale all'arteria discendente anteriore sinistra, chiamato in gergo Widowmaker, letteralmente il creatore di vedove. Perché è quasi sempre fatale. Unito ad un cuore più grande del normale, hanno infatti portato il wrestler ad un passo dalla morte. Ad un certo punto, il cuore di Triple H si è trovato a funzionare al 12% delle sue possibilità e necessità. Tanto che si è ventilata l'ipotesi di un trapianto d'urgenza. Alla fine la situazione è andata migliorando e al lottatore è stato inserito un defibrillatore che mantiene il battito costante e impedisce possibili aritmie letali. Tuttavia l'ipotesi di un futuro trapianto non è comunque al momento da escludersi del tutto. Ad oggi Triple H dovrebbe trovarsi attorno o poco sopra al 40% delle sue funzioni vitali con una prospettiva che volge all'ottimismo. Malgrado quanto ha vissuto, secondo la medicina attuale potrebbe tranquillamente vivere per decadi facilitando la sua longevità allontanandosi da ogni situazione di stress e seguendo una dieta e delle abitudini sane e prive di eccessi. Per tali motivi immaginarlo alla guida della WWE quando Vince McMahon non potrà più farlo sembra alquanto difficile. Triple H sta supervisionando i tryout in corso a Dallas in questi giorni quindi le selezioni con i giovani aspiranti combattenti che vogliono entrare nella WWE. Potrebbe pure non farlo la sua situazione economica non richiede particolari sacrifici e potrebbe probabilmente vivere di rendita sino alla fine dei suoi giorni. Il fatto che ci sia e che abbia presenziato alla festa per la presentazione della statua dedicata a The Undertaker e qui sopra sta passando il link con le foto e anche un video dell'arrivo nel ring dell'access di Triple H. Quindi il fatto che fosse lì evidenzia ancora una volta che fosse lì e che stia supervisionando il tryout evidenzia ancora una volta come ami visceralmente il suo lavoro. Tuttavia le priorità da qui in avanti dovrebbero essere quelle legate alla salute che si correlano a quelle familiari soprattutto considerando che ha tre figlie ancora molto giovani che potrebbero aver bisogno della leadership e della guida del padre. Stante questo quadro e visto che sua moglie Stephanie McMahon è sì un dirigente della WWE ma specializzato nel marketing e nel branding e non nella conduzione tecnica della compagnia intesa dal lato della creazione dello spettacolo che propone quindi Stephanie si occupa di numeri di immagine di partnership non di scrivere gli eventi e conteso tutto questo la successione a Vince McMahon che invece fa anche e soprattutto quell'altra parte attualmente è un'incognita che nessuno è in grado di sciogliere. Ecco questo è insomma l'adattamento italianizzato con alcune alcune sottrazioni del pezzo dell'Observer ed è interessante perché effettivamente oltre a quei dati in più su Triple H che in passato o vi ho omesso oppure non erano noti e spero di aver tradotto la terminologia medica nella maniera corretta nel caso correggetemi però a parte questo effettivamente ci fa pensare sul come la WWE potrebbe trovarsi senza un uomo forte al comando certo uno può dire c'è Shane McMahon però però Shane è sempre stato un po' non dico la pecora nera perché è sbagliato ma quello nelle retrovie quello che sembrava voler fare altro quello che forse non ha dato come Stefani l'impressione al suo padre l'impressione di volersi dedicare a questo o forse non gli ha dato la sensazione di poterlo fare come vocazione per la vita quindi chissà chissà effettivamente cosa accadrà cosa accadrà quando Vince non ci sarà più beh chiaro è inutile star qua a crogiolarsi nel dubbio però mi piaceva questo pezzo ci dà tante informazioni ci dà diversi spunti che io vi offro e ora sta a voi se volete parlarne discuterne se volete dirne qualcosa beh qui sotto c'è tutto lo spazio che volete nei commenti ovviamente al video